Benvenuti su Zupabs e nel desertico mondo del camello e dei suoi cuccioli. Che il camello può dissetarsi con acqua salata, lo abbiamo anticipato nello scorso video. Eh sì, ha un sistema di filtraggio che gli permette di rimuovere il sale dall'acqua. Lo sapevate che i camelli sono animali sociali, vivono in gruppi di 10 fino a 20 individui, guidati da un maschio dominante. Adesso vi pongo un nuovo quesito. Qual è il predatore più grande del mare e può pesare fino a 20 tonnellate? Scrivetelo nei commenti. Ma per sapere la risposta, seguite il canale Zupabs e non perdetevi il prossimo video. Infine, i cuccioli di camello nascono con le due piccole gobe già formate. Ricordate di lasciare un like. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video. A presto!